L'innovazione tecnologica in sanità è il titolo del convegno organizzato dal coordinamento sanità di Confindustria Abruzzo che si è svolto nella Camera di Commercio di Chieti. Un dibattito che ha visto protagonisti best cases abruzzesi nazionali e internazionali sul tema del miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Una prospettiva che permetterà ai diversi professionisti che operano nel campo, medici, personale sanitario, ingegneri, economisti, imprenditori e istituzioni, di partecipare ad un'indagine che avrà al centro i risvolti dell'innovazione nel settore. Il coordinamento sanità di Confindustria Abruzzo sicuramente vuole riuscire a creare un coordinamento, una sinergia, una partnership con la Regione e il suo obiettivo è attraverso anche questi eventi cercare di mettere nello stesso tavolo, quindi all'interno di una stessa platea, tutte le figure principali della filiera della salute. Incidere a che queste innovazioni diano un contributo anche in termini di miglioramento della organizzazione del sistema sanitario, questo significa da un lato facilitare gli investimenti e dall'altro recuperare migliorando l'utilizzo delle risorse, le stesse risorse per quegli investimenti e quindi credo che sia un percorso virtuoso che va messo in campo e che il nuovo piano sanitario abruzzese in realtà mette in campo perché dà e apre tante opportunità sul punto.